Amore, ma per quanto tempo pensi che dovremo continuare a pedinare? Beh, almeno a fine 18 anni. È un maledettissimo incubo. Fricatelli, ci venite quest'anno alla festa di Halloween? Non so se mia mamma mi lascerà venire. Friare in camera tua! Faremo separare i tuoi genitori. La soluzione è lei. 5 a 1 che non arrivano a Pasqua. Prima regola, ha diritto a doppia paghetta, doppie regali e doppie vacanze. Mi fai spiegare il posto di almeno come la vedo in... Come far litigare mamma e papà al cinema. Grazie.